papi papi vino a vedere che bello ma che cos'è dovina un po' è una rosa aspetta che me la faccio partire ne mancano due ci siamo quasi solo due giorni all'anteprima nazionale del film come una rosa nell'armadio vi aspettiamo tutti il 18 novembre al teatro ariston proprio laggiù